Sono le immagini inedite di due uomini normali, Giovanni Falcone e Polo Borsellino, di ragazzi che giocavano a pallone in Piazza Magione, nel rione di Palermo della Calza, dove abitavano con le loro famiglie a poche decine di metri di distanza gli uni dagli altri, di studenti con le loro aspirazioni e poi magistrati e la lotta alla mafia, la lotta a Cosa Nostra. Questa è la mostra dell'ANSA tra bianco e nero e colori, è stata inaugurata a Caltanissetta nella sede della Banca Sicana. Franco Nuccio, capo della redazione siciliana dell'Agenzia di Stampa, ha intervistato il procuratore capo Salvatore De Luca ed il consigliere della Corte d'Appello, Giovanni Battista Tona, che tanto nei primi tempi ha lavorato sulle stragi. Un giornalista di lungo corso nella cronaca giudiziaria e due magistrati che a vario titolo hanno lavorato e lavorano ancora sulle stragi. Il procuratore De Luca, giovane procuratore a Palermo, così ricorda Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, prima di aprirsi, di dare confidenza, di fare la battuta che ammette a proprio agio, dove la conosce a chi proprio bene. Io ero un ragazzetto appena arrivato. La mafia è cambiata, le domande senza risposta, i processi ancora in corso, questi gli argomenti trattati. La mostra sarà visitabile ogni giorno e soprattutto per le scuole, sarà a disposizione anche un video che verrà proiettato con numerose testimonianze. Realizzata dall'ANSA dieci anni fa, la mostra è stata aggiornata proprio nel trentennale delle stragi e nel corso degli anni è stata visitata da migliaia di ragazzi, oltre che da numerose scuole. In alcuni luoghi dal valore fondamentale, dal valore simbolico, come la Camera dei Deputati, il Comune di Corleone, il Parlamento Europeo di Bruxelles, l'Assemblée regionale siciliana e adesso l'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo.